SEMBRA SPARITO NEL NULLO La tragedia è avvenuta all'altezza di Rovoltè, la frazione di Desenzano del Garda nel Bresciano, tutto davanti alla moglie Sabrina e ai due figli di 5 anni e di appena 6 mesi. Nonostante l'allarme sia stato tempestivo, il corpo di Redaelli non è stato ancora trovato, tra le prime ipotesi, quella che l'uomo si sia sentito male una volta in acqua e che non sia stato più in grado di ritornare a galla. Ma ancora nulla, certo è che nel punto in cui si è tuffato l'acqua era profonda e le correnti sono solitamente forti, per le ricerche sono stati impegnati anche strumenti sonar e un veicolo subacqueo ROV.